avanti e benvenuti alla cucina di mamma lo oggi utilizzeremo il cuoci riso della tupper è un cuoci riso che funziona per il forno a microonde però noi oggi cuoceremo il farro ho messo 300 grammi di farro e 600 grammi di acqua per fare diciamo una zuppa ho messo il mio trito per per ragù che ho già messo nel blog e vi metterò nel box informazioni link e vediamo il procedimento chiudiamo il nostro contenitore ovviamente il nostro cuoci riso in questo con questo sistema e lo inseriamo nel microonde e lo facciamo cuocere con la temperatura media per 40 minuti quindi vedete c'è la 2 la 3 per lo meno il mio a 2 3 e 4 gradazioni e io la metterò in quella intermedia adesso il mio timer funziona a 30 per 30 minuti e poi devo metterne altri 10 comunque in tutto dovranno essere 40 minuti ecco qui dopo 40 minuti il nostro farro ora lo potete condire con un pochino di olio e mangiarlo così tranquillamente oppure fare dei cubetti di pancetta soffriggerli in una padella e e poi metterci il farro ad insaporire e vi auguro buon appetito ciao a tutti